Como laboratori per ragazzi con disabilità in orario extrascolastico via libera dall'amministrazione cittadina la procedura di gara negoziata per individuare l'operatore. Il valore complessivo dell'affidamento ammonta ad oltre 287 mila euro e comprende la gestione del servizio per due anni, la ripetizione di tre anni e infine la proroga di quattro mesi. Si tratta di un progetto sperimentale approvato nei mesi scorsi dalla Giunta e che partirà nel corso dell'anno. Il numero di bambini con disabilità tra i 3 e i 13 anni che beneficiano di interventi educativi in orario scolastico sono costantemente in aumento, si legge nella determina di Palazzo Cernezzi. Nell'anno scolastico 2022-2023 si è registrata una crescita del numero di bimbi in carico ai servizi sociali. Il primo anno il servizio sarà riservato ai bambini con disabilità media e medio grave dai 6 ai 12 anni che frequentano la scuola dell'obbligo. Dal secondo anno poi il servizio sociale del comune potrà autorizzare la frequenza laboratori anche di ragazzi più grandi dai 13 ai 17 anni. Il numero varia in rapporto agli educatori presenti, circa 8-10 bambini per due educatori. Si tratta di un progetto sperimentale, aveva spiegato nei giorni scorsi il vice sindaco e assessore alle politiche educative e sociali abitative del comune di Como, Nicoletta Roperto. L'obiettivo è andare incontro alle esigenze dei ragazzi disabili che non riescono a frequentare le lezioni nell'orario prestabilito. Le attività saranno di tipo formativo ed educativo per stimolare competenze cognitive, abilità personali e ludico-espressive per stimolare le capacità relazionali. La durata al momento è stata fissata in un periodo sperimentale di due anni. I laboratori si svolgeranno infine nel centro diurno disabili di Via del Doss, da lunedì al venerdì pomeriggio e il sabato mattina per almeno 10 ore settimanali.